Galeazzo di Tarsia, sesto barone di Belmonte, questo premio è arrivato alla 29esima edizione ma siamo al 30esimo anno dalla fondazione e dall'istituzione del premio che è stato provato infatti al 1993. È una successione che provoca un'emozione probabilmente avvalorata dalla consapevolezza del nostro passato, dal desiderio di studiare e di guardare al passato per migliorare il presente e per programmare un futuro migliore per le nostre liberazioni. Questo è, penso, il significato di questo premio letterario, non dimenticare la storia per migliorare l'oggi e il domani. Grazie per la visione!